Balun mi sembra troppo entusiasta, ci metta molta paprika, in modo che sappia di manzo, perché è carne di cavallo. Va bene, è il cane del signor Vojta. Grazie a tutti. Sono un funzionario solerte e pieno di zelo, io! E presto, queste buche saranno piene di neve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.